o benvenuto a tutti quanti ragazzi in questo nuovo video dove voglio farvi vedere il mazzo che ho portato all'open di bologna vi dico subito il risultato alla fine ho droppato poi l'ottavo turno nonostante sia partito comunque con un buon 4 1 1 comunque ad ogni modo il deck si è comportato veramente secondo me molto bene c'è ancora da limare qualcosina ma il deck che abbiamo fatto insieme in live ragazzi si è comportato molto bene tier per quanto mi riguarda è assolutamente ancora vivo almeno poi vedremo quando uscirà phantom nightmare che cosa accadrà ma ad ogni modo rispetto al giappone abbiamo svariate carte a 3 rispetto chi ha uno come ce l'hanno tipo cash tier come reino art per le rene e così via per cui abbiamo molte più possibilità di gioco appunto rispetto a loro oggi chiaramente ok per cui voglio farvi vedere questa lista anche perché me l'hanno richiesto i ragazzi direttamente in sede ovviamente una lista in rodaggio ma posso già dirvi la mia opinione su svariati rate delle carte ok per cui per iniziare triplo chiaramente reino art beh non c'è nulla da dire e a 3 lo giochiamo e ok non ci possiamo fare kit callos a volte mi scordavo perché essendo abituato a master duel mi veniva quasi voglia di buttare tipo una merle una shiren un avnis e dicevo faccio kit ah no non posso e allora mi bloccavo e poi dicevo cavolo devo mandare cash tier e sbagliavo no per cui commettevo errori di questo tipo perché appunto essendo abituati ormai ragazzi con le live appunto e giocando online succede questo casino poi abbiamo ovviamente i tre nomi ragazzi che appunto su master duel su master duel che cazzo sto dicendo che in earl sono appunto disponibili si possono giocare per cui insomma sono i tre nomi tier e altra carta che in ocg a 1 e noi abbiamo in tre per ragazzi è la cash tiera terlaments questa carta qui è una carta che anche su master duel abbiamo a 1 carta insomma nulla da dire ragazzi è fortissima entra milla macina cioè fa tutto va al cimitero milla diventa un bitone un 2 3 di base entra a cazzo di cane ragazzi non c'è veramente nulla da dire e un'altra carta ragazzi che mi è piaciuta tantissimo giocare nel mazzo è stato fangrier allora ne gioco due perché il terzo è praticamente di side ragazzi ma dopo vi spiego più che altro quando partivo magari secondo volevo giocare il terzo per avere sia engine sia una carta per andare a forzare delle cose capito per rompere i coglioni entrando special e così via per cui l'ho lasciato di side più che altro vorrei aggiungere la terreno una wright shot ragazzi appunto per andare ad aggiungere queste 5 carte uno per secondo me ci sta molto bene e ho sentito la voglia di inserirlo per l'appunto durante il torneo tanto messaggi sul cellulare ma vabbè e poi ragazzi finiti insomma il reparto tier diciamo tier cash tiera per quanto concerne i mostri l'mvp ragazzi ora arriva l'mvp c'è la carta che a me fa impazzire io non so cosa dire ragazzi in seti c'è ragazzi a me questa carta qui fa veramente letteralmente impazzire molta gente ha paura di utilizzarla perché dice mi backwash mi faccio un meno due ma dipende se voi lo tirate e l'avversario non ha hash chiaramente e op è fortissima vi accede a vampiro zombie gioca da solo vi fa pescare una carta pescare fortissimo ragazzi il sarcofago l'avversario si ritrova a doverlo rimuovere per forza dal campo pescando il turno dopo lo devastate evocando questi mostri buttate la roba al cimitero completamente a caso perché il sarcofago gli dà l'effetto addizionale veramente veramente una carta boh insane mi sbriccava sempre mi scartava le carte che al cimitero attivavano effetti tipo trevi karma tipo malicius e quelle robe lì no per cui veramente forte poi oh vabbè se l'avversario vi fa hash ragazzi pazienza però secondo me il gioco vale la candela perché quello che fa secondo me è veramente veramente broken e poi il mono api ragazzi che ho visto più spesso in mano lui di inseti beh lo sappiamo le carte in uno per le dovete vedere in mano ragazzi le dovete sempre vedere in mano soprattutto quelle che non ci devono essere però meno male comunque se c'è l'inseti lo scartavo alla fine non era non c'era nulla di che no alla fine boh lo buttavo al cimitero e via no vorrei aggiungere più sarcofagi ma adesso ce l'arriviamo e anche fortissimo inseti ragazzi veramente veramente una roba clamor pazzesco è una carta che boh lo adoro è bellissimo e poi abbiamo i due sarcofagi carta che voglio aumentare in tre per per una questione di lo voglio ne voglio il terzo anche perché voglio modificare leggermente la lista dopo vi dico come con che cosa ma voglio assolutamente il terzo sarcofago all'interno del deck perché ad ogni modo anche se ci parti magari bricchi no ok puoi partire con triplo sarcofago ma triplo sarcofago può essere sarcofago scarto doppio sarcofago mando inseti mando api ci faccio vampiro zombie e il vampiro zombie tecnicamente vi sbricca no non dico sempre ma comunque quasi sempre e ad ogni modo comunque avete sempre due bei bittoni che vanno a pusciare vanno a picchiare vanno a rompere i coglioni ok in ogni caso vi possono far scartare altre carte che tipo malicius e altre carte trivicarma che vi fanno comodo magari eventualmente al cimitero proseguendo ragazzi adesso abbiamo un po un pool di mostri insomma un po qua e là ok uno è il destrudo non mi piace non mi piace lo rimuoverò sicuramente dal mazzo si è forte ma non mi piace richiede un richiede che ci sia un mostro di un certo livello per evocarlo richiede che ci sia un altro mostro di un altro certo livello per poterci fare sincro 10 si può essere un extender che entra in campo per farvi fare qualcosa tipo sp link e dark si vi può fare dark e oscurità vi può fare dark quello lì che va a rebornare dal cimitero avversario si però non mi è piaciuto veramente non mi è veramente piaciuto ragazzi poi abbiamo doppio malicius senza denier e sono veramente contento di aver tolto denier perché malicius solamente lui fa il suo lavoro sempre utilizzato sempre evocato sempre rimescolato per fondere che poi insieme poi a dangerous andava a fare beatrice è fortissimo ragazzi in questo deck qua in questa versione qui comunque malicius è veramente è forte ok me lo so ritrovato spesso in mano perché è la legge di malicius però veramente appunto quei sarcofagi con inseti con altre cose te lo scarti e per il resto godi vanno due al cimitero pazienza lo fondi via uno va uno va nel deck dangerous e poi poi rimuovi quello che c'è al cimitero ci vai a fare beatrice proprio con uno schiocco di dita veramente veramente forte contentissimo di aver tolto di aver tolto denier poi un'aggiunta ragazzi un po di di pancia no l'aggiunta delle paludi si sono vecchiotti adesso li voglio ricomprare messi comunque bene sono molto vecchi di del tempo dell'epoca ragazzi e allora sì in mano non gioco la poli in mano possono veramente puzzare ma è la sua composizione che lo rende forte non c'ho i livelli 4 per cui dire magari evo che livello una volta carino art magari entra in campo special perché è stato mandato al cimitero avevo con livello 4 faccio bamut no non li avevo sarebbero da provare ma non li avevo sì poi comunque avrebbero effettivamente molto molto più senso chiaramente dato che piuttosto di giocare questi qua morti così senza la poli piuttosto va a giocare quello che al limite se capita lo avevo con normal e ci faccio rank 4 ma anche rank 4 tipo redore per cui comunque è stato fantastico ragazzi perché roll callos dea cioè proprio roll callos a parte che si è presa dei lavagole ma pazienza è un altro discorso con lì roll callos dea secondo me loro senza la poli e senza dove per forza mettere graff e chimera in extra deck va benissimo lo stesso perché graffa e chimera ti vanno a riempire l'extra ma possono essere di troppo secondo me secondo me secondo me ok per cui vi consiglio nel caso che se vogliate provarli così singolarmente giocate i livelli 4 ragazzi sono la stessa cosa ma i livelli 4 non addano poli così ci andate a fare il rank 4 ma veramente veramente forti per fare roll callos perché è troppo forte roll callos è veramente troppo forte e poi abbiamo mudora e cheldo allora ragazzi voi non ci crederete mai anzi secondo me sì ma queste due carte io le ho viste in mano insieme tipo insieme ad api tipo un triliardo di volte minchia le bestemmie ragazzi cazzo le bestemmie veramente le bestemmie però sono secondo me troppo forti per non giocarli cioè ok magari a g2 cioè a going second magari li decidi se parte l'avversario perché tu magari vuoi partire molto più forte più in fretta e così via però comunque se parti primo si puoi potenzialmente briccarci ma ragazzi arrivare a fare tutto il mill il mill il mill comunque avere queste carte qui che ti lavorano da sole al cimitero ti riciclano la tua roba romponi cogliene all'avversario secondo me ne vale troppo la pena non si possono non cattare le desaidi sì ma cattarle no secondo me poi per quanto concerne le magie ragazzi abbiamo tre per l'ereino ne abbiamo tre in giappone ce n'è uno per cui ragazzi cioè giochiamoli nel senso sono fortissime voglio affiancarla ad una wright shot chiaramente poi tripla urla fortissima ovviamente ora che agi de kelbeck sono stati tagliati abbiamo bisogno di tre copie di questa carta qui per me ok perché ci voglio partire perché viene millata ci vado a prendere la doppia salic o la counter trap che gioco di side qualora appunto partissi primo post side che la vada ad inserire ovviamente nel deck e questo qua è il reparto appunto magie trappole terlaments ok proseguendo poi ho una sepoltura sciocca di beni e una sepoltura sciocca questa potenzialmente si può tagliare via perché non manda kelbeck non manda gido perché non ci sono più e dover mandare qualcosina un po così potrebbe risultare un po ma dipende dipende perché comunque nella nuova versione che voglio provare a giocare del mazzo con i vision resonator quelli che escono strutture deck di jack può essere più impattante rispetto a come lo è con la lista che state vedendo no e la sepoltura sciocca di beni in uno per non in due per perché se ne può attivare una a turno e non avevo voglia di avere troppe carte che non si potevano attivare una volta a turno in mano per cui uno per secondo me non era male perché comunque manda trevi karma che abbiamo qui ragazzi che ci fa aggiungere la terreno se aggiungo vraizot ci può aggiungere vraizot per l'ereino se mandiamo la magia per l'appunto ci vado ad aggiungere le trappoline se mandiamo la trappolina appunto ci fa da sercino di un tier che vogliamo per cui secondo me mono non è male secondo me mono non è male ok scusate per le mani ma sto parlando con voi qua la webcam e allora mi agito e le metto anche storte le carte ma vabbè no così aspettate ok e poi allora ora c'è un trittico di 5 carte perché ho giocato a 40 chiaramente di carte che sono op ma al tempo stesso nel matchup sbagliato possono dare fastidio ma secondo me vale la pena giocarle possono passare di side ma devono essere giocate ovviamente parlo delle tre super polimerizzazioni mi hanno risolto troppi game sono troppo forti tolgono roba tolgono tutto non hanno senso sono forti ti scartano insomma quello che devi scartare per cui sono boppi non c'è niente da fare ci fai tutto e poi due talento tattiche che penso che rimuoverò perché non mi sono piaciute per niente ok la gente ci gira sempre intorno si va bene tu devi forzare cose perché l'avversario attivo effetti di monstri perché così poi la puoi attivare ma ragazzi sinceramente sono più le volte in cui non mi è servito un cazzo che mi è servito piuttosto vado ad aggiungerci dell'altro engine per evitare ancora più di bricare perché sì ragazzi ho briccato molto ma a causa del fatto che forse ho osato io ad aggiungere un po troppe carte per tryhardare un po troppo no appunto tipo destrudo appunto il talento tattiche sì contro in qualche matchup super poli non serviva ma comunque super poli vabbè è un gioco che vale la candela talento tattiche secondo me si può tagliare agilmente dal deck secondo me e la build che voglio fare andando a rimuovere destrudo andando a rimuovere le talento tattiche triple così via è proprio per giocare con i vision resonator aggiungere il terzo orus il duamutef per partire appunto per fare baronessa più zombie vampiro che poi comunque millan di vision resonator vanno ad aggiungere la crimson gaia mi sembra che si chiama così per andare ad aggiungere ogni turno sempre un vision resonator che comunque livello 2 ci fa i sprite sprint e un sacco di altre cose secondo me molto fighe a proposito doppie booster ragazzi è mvp cioè incredibile bellissime mi sono sentito molto più pulito nel giocare veramente veramente belle fate le doppie booster ragazzi mettetele come vi pare ma fate le doppie booster sono più belle poi passando all'extra deck abbiamo allora vi dico subito l'extra deck è tutto bello si è comportato tutto in modo divino non cambierei una singola carta tranne per una ma dobbiamo provare ovviamente con la versione dei vision resonator ma vabbè aspettiamo allora abbiamo sp sprite sprint e ovviamente dark ragazzi 120 euro di carta ragazzi la dovete giocare chiaramente sprite sprint fortissimo manda merly manda il vulcanico nel pot side quando siete vicino ai turni non serve discuterne anche perché se vado ad aggiungere i vision resonator questa carta qui può essere molto forte perché loro poi diventano dei livelli 2 con cui poi ci vai a fare sprite sprint con la quale poi ci mandi merly dark ragazzi è fortissimo io non capisco chi non lo gioca ci vai a tirar su di tutto per poi passare a fare sprite sprint potenzialmente anche sp secondo me questo qua è proprio il trio dei livelli 2 che ci deve essere all'interno del mazzo secondo me poi vedetevela voi poi mvp di todally awesome squalo bamut e red oer boh lo faccio sempre tod sempre fa quello che deve fare mi ha protetto da tutte le leveli del mondo red oer non esiste non giocarlo ti 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 trigger a shiren appunto perché appunto se l'andate ed evoca perché molto spesso shiren l'andate a prendere proprio per scartarvi la roba dalla mano per evocarla no e per avere un pezzo livello 4 in campo che poi insieme a keldom udora insieme a eventualmente il fango drago insieme eventualmente a reino art che evocate normale e così via c'è andata a fare red oer andata a picchiare attivate l'effetto staccate shiren shiren attiva l'effetto fonde evocate e lui poi continua a vivere poi bannandole così via red oer veramente infatti l'ho preso così collector perché mi piaceva veramente veramente di più non so se lo vedete vabbè comunque bellissimo e bamut e tod tod è stupenda boh bellissima è veramente broken veramente bene poi ti aggiunge cash tier dal cimitero ti aggiunge roba dal cimitero è fortissima ragazzi poi beatrice non dico sempre evocata quando c'era malicius ragazzi sempre evocata beatrice è fortissima crea pressione dà fastidio all'avversario sì ci poteva mandare a gido kelbeck ma in questo modo qua possiamo mandarci quello che vogliamo mi sono mandato le trivi karma mi sono mandato il re delle paludi per fare rull callos mi sono mandato quello che mi pareva beatrice veramente forte e vampiro zombie ragazzi che insieme appunto in seti api eccetera mi ha sbriccato non so quante partite mi ha ribaltato non so quante partite mi trovavo i ferrier o dell'avversario o il mio per evocarlo in campo e andare ad aggiungere cash tier a terlaments rotto poi da solo potenzialmente può andarvi a fare un sp cioè nel senso millate di merda comunque qualche mostro tra te e l'avversario hai otto possibilità di millare un mostro ci vai a fare poi sp a romper i maroni no comunque ad ogni modo può rimanere in campo ed insieme a sprint ci andate a staccare il materiale per andare a rimbalzare per il suo effetto capito per cui è veramente molto molto figo il vampiro poi un 3000 è bello forte è bello è bello grosso poi vabbè fusioni che non possono mancare sono il madragon of the swamp il garura essenziali super poli fusioni vari dei tier tutto quello che volete lui fate squalo bamut ovviamente non si può non c'è è inutile discuterne e poi il drago sta pelle l'ho evocato poche volte ma non si può non giocare anche perché devi usare super poli c'hai queste cose qua fondi è un negate si potenzia con perle reino trago sta pelle ragazzi è inutile discutere si deve giocare e il dangerous che con malicius ragazzi è sempre entrato sempre entrato per fare beatrice sempre ragazzi letteralmente sempre fortissimo veramente e poi ragazzi la dea rull callos è stata la cosa più bella che io abbia mai fatto inserirla è stata la cosa più bella che abbia mai fatto inserirla è troppo forte cioè è inutile va a negare centurion va a negare quello che cazzo vogliamo ritorna è grossa è un callos è fortissimo ragazzi e ovviamente kaleido art che insomma dobbiamo giocare cioè almeno vabbè è obbligatorio se giochiamo tier giochiamo questo chiaramente ovviamente e poi la monobaronessa che avremmo dovuto fare di destrudo oppure con altre carte più livelli 7 che ho in extra deck ma l'ho fatto una volta e con i vision resonator questo extra deck è perfetto secondo me perché poi con i vision resonator insieme ai ai horus ci vai a fare sincro 10 subito per giocare e poi fai quello che fai quel che caos scusate ho mangiato da poco ragazzi sono tornato a casa subito vi ho fatto subito il video perché lo volevate me l'avete chiesto anche nei dm insomma anche su telegram per cui eccoci qui e con i vision resonator penso che questo qua sia l'extra deck perfetto penso eh non non cambierei una virgola veramente di carte veramente clamoroso la colpa era appunto dei brichini un po' del mazzo tipo e la talent che non mi serviva un cazzo poi vabbè lì sono occasioni nel senso e vabbè danno la talent non ti è servito un cazzo ma cioè quante volte in realtà magari ti può essere utile sì però non mi gusta ragazzi lo voglio togliere lo voglio assolutamente togliere e questo ragazzi è l'extra deck veramente molto figo e poi passando al side abbiamo triplo Nibiru partiamo secondo contro il combo deck lo giochiamo chiaramente andiamo poi verso i turni giochiamo tripla questa qui non sono quasi mai andate i turni a sideare per cui potenzialmente posso valutare di andarla a togliere però lo spartitore vulcanico questo qua no non posso non posso togliere almeno questo qui ragazzi non posso toglierlo serve troppo con sprint lo macini ci vince i turni per cui secondo me questo qua ragazzi deve questo deve sicuramente rimanere questo deve sicuramente rimanere poi ho giocato il secondo il terzo further di side per quando parto secondo entra special forza le cose è comunque molto forte aggiunge praticamente engine e forzature comunque al deck post side partendo secondo per cui secondo me ne è valsa la pena aggiungerlo in inside deck poi abbiamo una tripletta insomma anche più di una tripletta ragazzi un poker di rimozioni per i deck di merda ovvero fulmine tempesta in due per e lo spolverino con l'aggiunta del battito del cuore ti ha raccrimalamenti che non l'ho mai visto però secondo me non si può non giocare secondo me perché ributta nel deck e poi si va al cimitero aggiungi trappola per cui a questo punto qui facciamo 2-1 4 e siamo belli freschi poi ti scarta con un tier magari ti parte comunque un mostro che magari ti serve al cimitero ed è forte e poi ragazzi un'altra MVP che è Colled ok è in 1 per ma mi ha salvato un sacco di partite un sacco ogni volta che l'ho messa sono riuscito e l'ho vista chiaramente mi ha salvato veramente un sacco di partite veramente forte toglie l'HT e clamoroso anche contro Darkward l'ho settata passo lui scarta Snow faccio Colled su Snow ho vinto ho vinto cioè ha risolto tutto ha risolto veramente tutto e poi quando parto primo il crime la crime insomma che quando parto prima voglio essere bello strong ce la vado ad aggiungere che tanto l'aggiungo di Scream vado a settare una counter da fastidio ributta nel deck sempre molto molto forte cioè il fatto che la ributta nel deck la rende veramente veramente forte appunto e poi ho l'opzione per eventuali situazioni di mirror match eventuali situazioni di deck che giocano di cimitero ovvero Abyss Dweller la quale togliendo Destrudo andavo a togliere Baronessa e andavo ad inserire il Dweller questo qui era sostanzialmente il cambio che andavo a fare ok per cui questo deck ragazzi secondo me una volta sistemato ancora un pochettino sarà cioè secondo me è forte tuttora cioè nel senso prima di Phantom Nightmare secondo me è veramente veramente OP il mazzo per me non c'è nulla da dire sì Iorus cioè in sé ti sta quella che sono nella 55 euro ma boh ragazzi per me è fortissimo poi non so voi ad ogni modo il deck ragazzi si è comportato veramente 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 molto bene veramente molto spesso mi sono fermato con una board veramente clamorosa come questa qui adesso vi faccio un esempio ma non mi è capitata una volta due volte ma molto spesso ragazzi di terminare la board così no con Rul Callos Beatrice c'è Todd e SP ma mi è capitato veramente un sacco di volte ad ogni modo anche partendo con questo setup lo rende veramente strong poi magari qui abbiamo qualcos'altro abbiamo magari eventualmente una cash tier con sotto una trappolina abbiamo una super polisettata ma è veramente a volte sì ci può essere anche il ferrier d'accompagnamento ma non è capitato in modo occasionale queste situazioni qua mi è capitato veramente molto 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 spesso ragazzi veramente molto 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 spesso è questa qui la cosa clamorosa perché riesce comunque insieme agli shuffler che magari sono nel deck il fatto che lei possa mandarci il il mostro per andare a fare Cala Edoart se abbiamo la terreno con la perle reino ragazzi abbiamo rimozione rimozione negate Rul Callos che fa negate di summon perle reino che spacca Cala Edoart che entra che rimischia per cui è veramente forte cioè mi è capitato veramente veramente spesso è per questo che mi piace molto comunque come mazzo e voglio vedere appunto con la versione con i Vision Resonator e la Crimson Gaia come andrà e che cosa succederà dato che comunque il Vision Resonator basta che c'è un Dark Monster di livello alto in campo e lui entra anche se sul campo avversario ok arriverà Fiking che magari non gioca Dark di livello alto ma gioca prettamente Link e altro di Abelstan non dovrebbe stare sul terreno vedremo però insomma con Yimseti eccetera l'aggiunta di quell'altro di Duamutef per andare a fare appunto Baronessa secondo me lo può rendere veramente veramente bello e divertente e forte comunque Terlaments è vivo in Giappone in Giappone in Giappone hanno questo bannato hanno le carte limitate per cui non possono giocarlo più noi abbiamo tutto a 3 sì non abbiamo i 1000 da 5 ma il deck rimane veramente 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 ragazzi forte e lui è un dio bellissimo ragazzi noi ci vediamo a un prossimo video spero che insomma questa decklist se voi siete dei fan di tournament spero che questa decklist vi piace che vogliate provare la versione vision resonator ragazzi come voglio farla io che poi comunque vi mostrerò anche direttamente in live ragazzi sono contento del deck che abbiamo fatto mi è piaciuto mi è girato molto cioè mi è piaciuto ragazzi mi è piaciuto veramente molto quello che abbiamo fatto in live certo ho fatto ho tolto tipo i danger e così via ma comunque giusto due accorgimenti dell'ultimo secondo ma comunque mi è piaciuto molto ragazzi noi ci vediamo un prossimo video ci vediamo ovviamente con un nuovo pacchetto di master 2 sempre sul canale sempre su twitch e alla prossima